attenzione per il territorio in maniera globale tenendo conto di priorità criticità ed obiettivi un accordo di programma tra i comuni guardando al master plan e dunque l'obiettivo principale è quello di rimettere i comuni il livello di governo più vicino ai cittadini al centro del sistema master plan dell'agro sarnese nocerino contiene progetti e proposte proprio per lo sviluppo di tutto il territorio con la sinergia di tutti gli enti coinvolti sono 13 comuni interessati dalla realizzazione proprio di programmi integrati di valorizzazione per il rilancio dello sviluppo economico e sociale della valle del sarno e quindi comuni di angri castel san giorgio corbara non c'era inferiore non c'era superiore pagani rocca piemonte san marzano sul sarno san valentino torio sante gido del monte albino sarno scafati siano l'accordo di programma stipulato all'intento di creare le condizioni istituzionali organizzative ed amministrative proprio per realizzare la coesione istituzionale e quindi è stata anche istituita la conferenza dei comuni un organo composto dai sindaci degli enti aderenti con la funzione di indirizzo e di sovrintendenza generale sullo stato di attuazione proprio degli obiettivi prefissati la conferenza dei comuni sarà poi supportata da un organismo tecnico formato proprio dal personale tecnico dei singoli comuni la sede operativa della conferenza dei comuni individuata al castello del parco fienga di nocere inferiore e il soggetto referente dell'accordo è il sindaco di corbara pietro pentangelo tra le finalità dell'accordo che sono correlate proprio al conseguimento di obiettivi di economicità efficace ed efficienza dell'azione amministrativa c'è l'omogeneità e l'uniformità dell'azione amministrativa nelle situazioni di emergenza di carattere idrogeologico e di protezione civile la mobilità sostenibile viabilità e pianificazione in tema di mobilità la sicurezza urbana la vigilanza comune e servizi di polizia locale messi a rete il miglioramento della protezione e valorizzazione del patrimonio culturale anche puntando sulle filiere produttive locali la salubrità e vivibilità dei centri abitativi il ciclo integrato dei rifiuti in una collaborazione tra subambiti e la centralizzazione degli acquisti con ottenimento di economie di scala l'ufficio tecnico in rete con la creazione di una banca dati e la digitalizzazione dei servizi standard